60 cassette di frutta e verdura sono state sequestrate questa mattina a diversi venditori ambulanti abusivi in tutta la città, i quali, stando a quanto accertato nel corso dei controlli, non avevano la licenza di vendita e avevano collocato senza autorizzazione i loro banchi di vendita. Questo è il bilancio di una serie di controlli a tappeto messi in atto dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale. La merce sequestrata verrà devoluta in beneficenza. Un'attività che segue stretto giro, quella operata la scorsa settimana dalla Polizia Amministrativa. I controlli sono stati disposti dalla Prefettura per contrastare l'abusivismo commerciale. Gli investigatori hanno infatto sottolineato come l'abusivismo commerciale e la contraffazione dei prodotti finiscano per danneggiare gli imprenditori e i commercianti che lavorano in maniera regolare, andando a distorce le regole che disciplinano il libero mercato. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.